Ok io sono arrivato alla big city primo 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 xd 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 primo Saluti ragazzi e benvenuti che cazzo faccio un'intro seria una serie di merda Esatto Niente siamo su mmo a secondo episodio facciamo casino Andiamo a cercare il nostro swan Il nostro swan che si accende da marena We want a marena Ok io sono natura su hello però me ne faccio un caso io sono nella spiaggia si ma c'è c'è un bullo che mi sta trollando fermati qua Io sono sulla spiaggia Vamos a la playa Vamos a la roca No Anch'io Che poche Mi sono dimenticato di curare i pokemon Guarda come ti ho sciolto Guarda come ti ho sciolto sto brample Guarda come ti ho perso sto sto brample No raga questo qua c'è sì Bra Esce il new one ball Yucca Mica gli è uscito il trico salvaggio madonna Io direi che me ne vado verso il bosco della minica Raga ho perso di nuovo Sì ho crittato non ci credo l'ho sconfitto Mica giovo sai sculo giovo Ho crittato Oh raga venite su verso l'opetano E sai com'è c'è un bullo che mi sta bulleggiando Oh ma guarda switcha pure sto bullo maledetto Ma vero ma switchano gli allenatori normali Ma cioè neanche i campioni switchano nei giochi normali Adesso arriva sto bullo Ma come nessuno ancora switchando E vabbè ascoltami sei un maledetto 2001 Sei veramente di un'originalità Vero Sai che me ne sono stupido anch'io No aspettate aspettate No c'è questo è un sito che mi ha caricato la pazienza Che cazzo quale sto qua No occhio Porta pazienza Luke Porta pazienza Oh c'è un piglia mosca Ma perché c'è un piglia mosca a fianco a un pescivendolo Sai com'è c'è dal 2004 E li fermo dal 2004 A guardare il mare insieme a un pescatore Sì Te lo ricordi te Fabio La storia del pescatore Quel video là che ti avevo fatto vedere Quale? No Quello rallentato di SoulSilver Ah sì Io non mi ricordo un po' Perfocatore Figa l'ignoranza Ok signori miei Io sto arrivando sconfitto il coso lì Io adesso mi sono fermato a picchiare il bullo Adesso commenta di serio Ma infatti mi è smadonna Io sto a random uno zig zag qua Molto selvaggio Ma come non switch a nessuno Pescatore Pescatore Te lo do io il pesce Oh Magic Carp Magic Carp Un po' così no Oh mio Dio No ho usato No non usare pazienza Brutto figlio di puttata Comunque è noto che il pescatore Ho crittato Ho crittato E' andato giù Vedi che sei una vergogna Della società Ma guardo come un mouflon Cheat Cheat Mouflon in onda Mi caraga splash Un saluto Siete fantastici Vi adoriamo Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al mio canale I canali youtube Esatto Anche F***a Quando è che finisce Finisce sta pubblicità Del WWF Con sto pesce di merda Che devo sconfiggere Che non si leva ancora Ora che stanno Stanno verso il bosco Del bosco Ma qua c'è un Magic Carp Incredibile Che mossa li faccio Li faccio scratch Pray for Magic Carp Ok ho devastato Il maledettissimo pescatore Via 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 Li faccio Ember Magari gli fa più male Ah raga ma siamo Sulla spiaggia Quindi posso farla sigla Di Baywatch Aspettate I believe I can fly Sbagliate il cd Ho sbagliato in epoca Ah ma io come mi chiamato Sei avantissimo Ma io c'è Torchic Al livello 12 Raga E io c'ho Il mio avanti Qualche livello sarà Dove non si sa Sapete che dovremmo pure Trovare un membro Della squadra Potrebbe essere un'idea Eh ma non ce ne sono Di Berlin Questa prima parte del gioco È applicato Di tutti sto gioco Qua l'ho giocato e rigiocato Ormai c'è Il trovare un po' Che non ho usato Una sfida Potrei prendermi Sroomish Ma boh E mi chiede Anche io voglio prendermi Sroomish Però boh Su tre guide Sroomish Lo uso quattro volte Cioè Nel caso mi sa Potrei prendermi un corotto Un warpo che non ho mai usato Un warpo che non ho mai usato Però boh Non ti conviene Eh Luke Lo sappiamo che non hai mai usato Un warpo Ti capiamo No no Potrei prendermi su là Se esce magari Così Poi ci stai te però C'è a farciondolare il tizio Ah giusto Non so se ti conviene molto Ho trovato un selvatico Chi sarà mai Gesù Zigzagoon E più o meno L'idea è quella Minchalaggio Dio selvaggio E' selvaggio E' veriamolo No Allora ho beccato il piglio mosco Che fa la collezione C'ha 5 vassi C'ho tipo Dai io Ma c'ho il gioco Metta in inglese Metta in italiano Tipo Appare zigzagoon Selvatico Creepy Vanna in campo Madkip E c'ho le mosse In inglese No non è vero Allora la battaglia Ce l'hai in italiano Go tu dico Use quick attack Eccolo E poi tutto in italiano Dopo Mi sembra Mi sembra più Creepy find Pozione Tipo Tipo Piglia mosca E send out Sì però cazzo Quattro Di più Sono regali Anche nel peggio Stati Indagati Ma si raga Warple Devono bandire In 27 paesi Io mi do fuoco No ma aspetta Quante ne ho ancora Ho visto Ah questo qua E' quello che c'ha 83 Warple Mi Eh Ci sono appena battuto Adesso devo andarmi A prendere questo Cosa Oh ma sto Fabio Che è sempre davanti a noi Ma io mi disiscriverei Ma io mi disiscriviamoci Cioè In massa proprio Ma ragazzi Io ho deciso Mi fanno un dustrock Se va a fangulo A tutte A tutta A toto Eh dove lo prendo Buona fortuna Cazzo No L'unica L'unica poca Anche a portare Prende Mi è Ninja Però Quella mi piace Tanto Cioè alla fine Ninja Dov'è che l'ho usato Ninja Ski Mega Power Sì Infatti Sì Posate vedere La guida Di Mega Power Se non l'avete ancora vista Così poi Potremmo Ma quello Il tipo lì Il tipo che dobbiamo salvare Dal coso È un cazzo di minchione Che c'è sempre fuori Dalla palestra È un bar Che ti dà l'acqua fresca Ma che minchione è mai Sto minchione È sempre stato lui Io lo faccio Ma no Ma sei serio? Eh sì Ah c'è timido Qua C'è fosse il team magma Cazzo Ma io penso C'è fosse il team verde Minchia raga Madchip vuole imparare Prevegenza Io lo insegno subito Cazzo Poi lo mando a Italia 1 A fare il Previsioni meteo Come faccio A fargli Ah ok Do cliccare Ah ok Mi sa che devo andare Col mouse qua Eh infatti Diamo Cucina livello 9 Chiuso Vai Puta Ember Lo start Eh? Lo start Che livello ce l'avete 12 12 Anche io 12 Siamo proprio a sincronizzazione La sincronia proprio Emberalo 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 mi è piaciuta Hai avuto la meglio Sulla È il bacchecia Bacchecia No So Spallire al 2 Bacchecia Al 13 Mannaggia Gesù Minchia ho scopito Ti manco A quella rocchetta Grande Raga Ti manco La rocchetta Ma chi è che sta registrando? Io Ah già Ah quindi Io non mi devo neanche preoccupare Di quanta parte di registrazione Siamo Esatto Tengo sotto controllo Minchia io stavo Stavo aprendo Camtasia Per controllare Cioè Genio Tieni sotto controllo Tu gio Perché vedi che poi ci mettiamo a reccare Due ore Oddio Aspettate che devo curarmi Il Pokémon Si raga ma un attimo Ma avete abbandonato così Ma sono ancora la cosa del tivitro No Io sto più Io sto più a mosche Sto gazzo Un sacco Un sacco Trovato Davvero Non avrei mica intenzione di catturarlo Spero Ragazzi Lo catturo Minchia Rip Vabbè Masochismo Proprio L'idea 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 Ovvero Ovviamente Non lo farò mai E sarà sempre un video Quello Questo è poco Ma sicuro È vero Potresti ragionarlo Così Però Eh raga Vedete No C'è come tanto Non spara Sulle solite Minchiate Pazze Va bene Raga Dai Allora Io farò Un team Ignorante Intanto Nel frattempo Mi si Le solite Vedete Che non spara Le solite Picrossate Ho sciappolato Esatto Ragazzi Ho fatto una cagata Ok Avrete visto Per un attimo L'episodio 19 Della soul link Che stavo renderizzando Ma è venuto fuori Sul pc E ha coperto Tutto lo schermo E viva Sì Professionalità Ragazzi Magari Lo censuro Se c'è No vabbè Ma tanto esce Prima L'episodio Della soul link Quindi Cazzo me ne frega Ho catturato Un gas Vabbè Raga Allora Io ve lo dico Maila Utilizzerò Skitty Ma 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 come cazzo state Fra Vigorat 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 Porca madonna Skitty No dai Ma mi chiami Non le censuro Neanche per sbaglio E a livello 5 Mamma mia Potentissimo La potenza Ma no Ma mi sono appena Reso conto Che mi sono chiamato Frosty YouTube Come Frosty Devo andare peggio Potrei chiamare Carmelino Ma porca la madonna Carmelino O pane e vino E tra la E shabar Sì a tutti i ragazzi Sono Howard No non sto scazzando Toad Sono Torch Coscio Simone Pacello Dai Simone Pacello 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 Dove fate ad essere concetti così Basta Quanti siete Guardatemi dietro di me C'è uno stracolo che mi stanno usando il fondo schiena Guardate da dietro Guarda quanto è triste Cioè dice Ma porca No ma perché mi sono messo davanti sto allenatore Non volevo contare Ma ti curi pure Ti curi pure Ma voi dove siete raga Sono Fuori dalla foresta Che fa Pietro Ok Ah eccovi Ma raga io sto qua lo balzo tutta la vita Cioè Ma va fa culo Mi ha preso lo stronzo Io mi sono messo davanti Se sei peggio di Equitalia Maledetto Levati Dai io mi botto su Resta 4 Luca Dili quello che stavi dicendo Torch Zigzagoon Tornate nel vostro paese Zigzagoon Ritorna No Lottad No Per favore Vabbè Ci sarebbe Anche Se non avessi Mudkip Ci starebbe Un botto No lo prendo io Raga Non so dove andarla a catturare No vabbè Comunque si Io Non penso Ma dove Ti sei già cagato il cazzo Lì Raga Mi ha Mi chiedi che è veramente un allenatore professional Oh io sta allenatrice qua la balzo malissimo Raga ma dove lo prendo Lottani Mi pare che si trova Come faccio da affrontarne insieme se ho solo un pokémon Non puoi Non puoi affrontare E come no Mi hanno affrontato Come È impossibile Il smanato Il smanato ormai non si poteva affrontare con un pokémon Ma come faccio io Sei un pazzo Gio Sei un pazzo Vabbè Tanto si Dovrebbe fare solo pazienza Quindi io ne lo attacco Io sto affrontando le due gemelline Gemelline E anche io Solo che io con un solo pokémon E quello il true Mi chiede Mi ho shottato Lottad Ho fatto brutto colpo Minchia raga Slakot Ho shottato Seasoft Mamma mia Slakot power Minchia meno male che ho fatto Vai Vai contro le due gemelline Troie zuccoline Se vinciamo Se vinciamo ci sono le gemme Allora Vediamo un po' No ma c'è Lottad Che balle Sti cazzo di Lottad Che bordello Raga Certo che Siamo proprio devalzando i culi Su questo M No no raga Sì raga Comunque adesso arriviamo alla città Stoppiamo Perché siamo già a 12 minuti Questa serie qua Deve essere trash E Ergo deve avere Pochi minuti di video C'è una brutta notizia raga Slakot è morto Dopo aver ciondolato Si dice che Stia poi a essere sostituito Nel box Ok va bene Basta Regato per sempre Gli ho sciottati malissimo Non mi hanno elevato manco un PS Sono troppo forte Se non posso andare alla Lego Nella prossima parola Mi ho basso anche Sto pescatore del merda Cazzo nel frimento Ok io sono arrivato alla big city Primo 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 xd 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 primo Addo secondo I put like a biscotto Figlio di puttato No forse mi prendo Mi prendo l'altro E' dunque Luke primissimo E' marcio E' mezzo Guarda sono dietro creepy stories We hope to see you again Bene Luke dove sei muoviti che dobbiamo concludere Concludiamo Where are you Where are you? Diri 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 du Cazzo Luke il tuo slacot è orribile Dio mio è stra... E' fattissimissimo Ma poi tipo guarda per terra come per dire nooo Per favore Liberami dal mare Ok dai Signori miei Questo episodio si conclude con un intro poco professionale Luke mi compenetra Vai Sposta tiro Vai dall'altra parte Ok Eccoci qua Siamo a posto Luke Porca troia Vai di fianco a Fabio Aspetta che la mia tastiera non risponde Che è fatto Ok raga E' anche la mia domanda Quindi questo Secondo episodio di Pokémon Finisce qua Nella prossima Accontriamo la palestra sul mio channel Che cazzo gliene frega Tanto non seguiamo la trama Facendo tutto a scazzo Sì Nella prossima Faremo la lega Pokémon Ok bella Ciao